Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandro Villani, mi occupo di ricerca e sviluppo su prodotti ambiente notes e prodotti collaterali nell'ambito dell'Explan Consulting, che è un'azienda che opera sulla piattaforma notes da oramai 15 anni, diciamo, abbiamo acquisito tutta una serie di esperienze in vari settori e puntiamo all'integrazione con altre piattaforme nell'ambiente soprattutto IBM e tra le nostre piattaforme preferite dopo ovviamente notes è Cognos, Cognos riteniamo che sia la piattaforma di business analytics nell'offerta che fa parte dell'offerta IBM, molto interessante in termini di prodotto, di sviluppo tecnologico, eccetera. In questa breve sessione che vi separa, anzi dovreste avere un premio stasera, se siete arrivati alle 5 e mezza siete ancora qua a resistere, diciamo che oggi affrontiamo una soluzione molto semplice di integrazione di un'applicazione notes con degli strumenti della Cognos 10. La piattaforma Cognos BI 10 è un prodotto, è una soluzione, una piattaforma uscita l'anno scorso, voi immagino che sapete tutti che Cognos è stata una delle più grosse acquisizioni di IBM degli ultimi 3 anni, anche una delle più faticose diciamo in termini di risorse monetarie, però IBM nell'arco di 2-3 anni ha fatto uno splendido lavoro e ha veramente creato una piattaforma con una serie di strumenti veramente completa, quindi una piattaforma in grado di poter dare al singolo utente tutta una serie di strumenti che vanno dal personal dashboard, all'analysis, real time qua, sono solo alcune caratteristiche delle piattaforme Cognos 10, non voglio farvi oggi, anzi penso che magari, adesso non so se siete qua probabilmente siete interessati o avete in azienda già una piattaforma Cognos, quindi magari avete già affrontato problematiche di questo tipo, però diciamo faccio una brevissima presentazione, non vi spiego la piattaforma Lotus Notes perché immagino che la conoscete molto bene, mi interessa focalizzare alcune delle potenzialità della BI 10. Innanzitutto il portale è unificato, tutti gli utenti accedono a tutte le risorse e gli strumenti della business analytics in ambiente totalmente portale, fra l'altro l'integrazione del portale Cognos con altre piattaforme è totale, nel senso che io posso prendere le portlet a integrarle in SharePoint, in Westfield Portal, eccetera, e quindi riesco a fornire tutta una serie di servizi non solo alla piattaforma integrata di Cognos ma anche alle soluzioni aziendali che ci sono già, che sono già presenti, posso usarla con, essendo totalmente web, non devo installare niente sul mio client, quindi zero footprint, quindi ho tutto quello che devo fare dal design dei miei report alla fruizione, alla creazione dei miei dashboard, è totalmente web, e poi ho tutta una serie di strumenti per cui vado dal real time, dalla gestione degli eventi, motori che scatenano azioni in funzione di determinate condizioni basate sul fatturato che improvvisamente crolla, allora parte un sms, amministratore delegato, quindi giochi in giochini di questo tipo, scorecard, online offline, adesso ci arriviamo perché questa ci interessa moltissimo, la piattaforma Cognos 10 integra soluzione, una completa soluzione mobile, quindi supporta qualsiasi palmare, qualsiasi telefono, smartphone e soprattutto ambiente iPad, oggi come oggi, office, integrazione totale in ambiente Microsoft Office, non c'è ancora in Symfony, magari prossime versioni, in office ho anche uno strumento di analisi per Excel, integrazione con Lotus Connection, e di questo poi magari verificheremo un attimo, perché la filosofia, ma poi questo ci arriveremo soprattutto nella slide finale, di IBM è quella di integrare questi servizi che sono presenti in azienda il più possibile, in modo tale da scambiare più informazioni possibile, la prima integrazione che è stata realizzata è con Lotus Connection, all'interno del portale io ho una piattaforma Cognos che è in grado di fare una business analytics all'interno della mia piattaforma social, e questo è molto importante. Quindi, strumenti di questo tipo sono totalmente integrati nella soluzione Cognos BI 10, voi comprate la licenza e avete tutto questo. Tutto quello che abbiamo visto, prima le vecchie versioni erano modulari, ognuno doveva comprare, cioè uno comprava la BI, poi comprava l'Office, comprava il mobile, attualmente nell'offerta IBM attuale è tutto integrato e tutto compreso. L'esercizio che vogliamo fare oggi è, abbiamo la nostra splendida piattaforma Notes che è la nostra bene amata, vabbè è inutile dire, 20 anni di prodotto, oramai consolidata, innovazione, X-Pages, social, connection, integrazione, su cui sta spingendo IBM la piattaforma di collaborazione ha veramente dell'innovazione, cioè segue, cavalca l'innovazione, andiamo verso il mobile sempre più spinto, andiamo verso il cloud con le soluzioni smart, smart business, eccetera, eccetera. Quindi, se Notes è la piattaforma leader di collaborazione e Cognos è la piattaforma leader della business analysis, forniscono entrambi i servizi, il nostro sforzo è quello di riuscire a integrare all'interno della nostra applicazione Notes, perché comunque è tuttora presente, sono tuttora presenti tantissime applicazioni Notes all'interno delle nostre aziende di collaborazione, ma nell'ambito dello sviluppo delle applicazioni noi riteniamo che Notes sia tuttora imbattuto su determinati processi che poi magari non sono i processi di produzione, ma sono i processi di collaborazione, quindi non so, tutti di voi, tutti di noi abbiamo probabilmente una gestione delle spese, una gestione delle presenze, una gestione delle ferie permessi, tutti i processi di collaborazione che permettono fondamentalmente di utilizzare ancora Notes. Quindi l'idea è, visto che Notes obiettivamente è sempre stato un po' carente, diciamoci la verità, dal punto di vista report, dal punto di vista dashboard, dal punto di vista ci si è sempre appoggiati a prodotti di terze parti, alcuni molto efficienti, immaginiamo le soluzioni teleprint della Synaptris, eccetera, dashboard sempre della Synaptris, però diciamo sono sempre soluzioni proprietarie embedded in Notes, quindi che si portano dietro il presupposto che stiamo lavorando con dati esclusivamente in Notes. noi vogliamo cercare di fare qualcosa in più, abbiamo una piattaforma di business analytics aziendale, là dove c'è, vogliamo sfruttarla pieno, quindi andare a arrivare a integrare anche all'interno di una splendida nostra vista in Notes, magari qualche informazione di più che riguarda magari i dati di vendita, che non sono tutti provenienti dall'ambiente Notes ovviamente. Cercare quindi di sfruttare al meglio quello che abbiamo, se possono fare tante cose. quello che vogliamo affrontare oggi è uno strumento, facciamo così, ve lo faccio vedere così già prima, ecco io ho una splendida applicazione Notes, come tante, navigatore, una vista, giusto? siete sicuri? però è bella, è uguale, è veramente identica, c'è da dire che anche le freccettine, però se ci fate veramente a casa sono azzurre, non sono verdi. Quella che state vedendo non è una vista di Notes. fondamentalmente. Che cos'è? È un oggettino che il nostro server Cognos ha prodotto, che si chiama Active Reports. Allora, c'è una premessa dietro qua che ve la racconto, 5 minuti proprio, una cosa... questo mio cliente, questo nostro cliente voleva vedere delle statistiche relative al lavorato dei propri team, perché loro inserivano le attività, il proprio team inseriva le attività all'interno di un'applicazione Notes, e mi diceva Villani, però caspita, ma guardi, una vista sarebbe perfetta, in modo tale che la diamo alle persone, tutte le persone hanno sotto, hanno sempre sott'occhio il loro lavorato del loro team, del proprio team, è bellissimo, facciamole le liste. E io dicevo, caspita, però, sono tanti i dati, abbiamo qualche milione di record, e in più dobbiamo anche sintetizzarli. In un primo momento dico, vabbè, facciamo un database delle statistiche che tutte le notti viene generato, riduciamo i dati, li comprimiamo e magari cerchiamo di migliorare la situazione, però era una situazione abbastanza drammatica, perché tutte le notti girava questo processo Notes che raccoglieva dati, li aggregava, li ricalcolava, creava svariate decine di migliaia di record, che tutte le notti venivano buttati via e ricaricati, buttati via e ricaricati. Questo database è in replica su altri server, e questa è la cosa peggiore che si possa fare in Notes, cancellare e ricreare, cancellare e ricreare. Abbiamo detto, no, così non riusciamo ad andare avanti. Abbiamo una splendida piattaforma Cognos, perché non sintetizzare i nostri dati direttamente in questo modo? Ci siamo messi lì, abbiamo studiato e abbiamo generato questo, che siccome il cliente voleva vedere assolutamente come report, come vista Notes, in un primo momento non se ne è neanche accorto. Se ne è accorto, se ci se ne accorge solamente quando io clicco su una voce e non mi appare la classica, che si drina, ma appare questo oggetto che non è tipico Notes, allora uno dice, caspita, questo qua non è una vista, è strano. Adesso scusate, c'è il mio server sotto, che sul mio notebook, che sta macinando. Però ecco, passato il giochino non è quello che vogliamo fare noi, perché a noi non serve fare una business analytics per poi rifare una vista di Notes. Quello che noi vogliamo ottenere, che cos'è? Quello che vogliamo ottenere noi è una cosa del genere. Su server è più veloce, con un vero server. Quello che vogliamo ottenere noi è una cosa del genere. È un dashboard. Oppure, questo qui non è neanche bello, andiamo in un altro. Questi sono esempi tratti dalla piattaforma Cognos BI10, se installate gli esempi, questi sono esempi di report già fatti. Eh, questo qui non è male, insomma. Avere un oggetto di questo tipo, in cui, se io clicco mi si appoggiornano i dati, una cosa così in Notes non l'avete mai vista, ditelo. Sono veramente belli questi oggettini qua, che cosa sono? Allora, vi dirò di più, sono offline addirittura. Questo è un report offline. E uno dice, vabbè, un report offline che cos'è? Un pdf? No, non è un pdf ovviamente, perché sennò non sarebbe interattivo. Che cos'è questo oggettino? È quello che Cognos chiama Active Reports. Ed è una delle novità della versione 10 di Cognos, che ci permette, che permette fondamentalmente di creare report di questo tipo e di poterli usare in modalità connessa o sconnessa. Quindi l'accesso è online e offline. Posso distribuire questi report direttamente dal portale di Cognos, oppure, schedulati tramite uno scheduler, mandati in posta elettronica, per esempio. Sono Active Report perché posso metterci dell'interazione, quindi mi inserire dei tasti, avete visto dei tasti, avete visto dei click, avete visto degli slider, diciamo quindi da questo punto di vista, ha un certo grado di interazione. Utilizzo veloce e anche scollegati. App per iPad e Android. Questi strumenti sono quelli che una grossa casa farmaceutica sta usando, ha dato alla sua forza vendita, ha tolto i suoi PC, ha tolto i PC e gli ha dato gli iPad e gli manda tutte le notti le proprie statistiche di vendita in questo modo, con un Active Report, gli rispedisce. Esiste l'app per iPad, l'operatore, l'informatore, prende e entra e vede tutti i suoi dati di vendita e interagisce direttamente, quindi è in grado di filtrarseli per cliente, per periodo, per quarter, diciamo per tutta una serie di dati. Ma l'altra cosa che ovviamente ha veramente un grosso significato è anche ridurre l'impatto sui server, perché se ho 100 agenti che mi chiedono tutte le statistiche online, ho un'infrastruttura di business analysis notevole, se no il mio server fa fatica, invece in questi casi li creo, li genero durante la notte. Ma che cosa sono un Active Report, visto che i PDF non possono essere? L'Active Report utilizza una tecnologia MHTML. MHTML è un formato di file che si chiama MimeHTML e è chiamato anche WebArchive, perché è una tecnica che permette di integrare tutti gli oggetti che sono presenti all'interno di una pagina, HTML, di integrarli in un file. Quando voi vedete una pagina HTML su browser, in realtà è una pagina che contiene prevalentemente link a oggetti che stanno da altre parti, le immagini, i video, eccetera. Questo file WebArchive che cosa fa? Sostituisce i link con gli oggetti veri e propri, per cui le mie immagini, io ho all'interno del mio file le mie immagini, i miei video, i miei programmi, il mio JavaScript, la mia parte Java, eccetera. E ovviamente Cognos che cosa fa? Ci salva dentro anche i dati. Quindi io ho un file totalmente autoconsistente che completo di tutto, compresi i miei dati, su cui posso fare anche delle azioni, quindi posso anche, e infatti Cognos fa così, il design studio, il repo studio di Cognos, praticamente mi permette di inserire degli oggetti, quali tasti, slider, eccetera, che interagiscono sui miei dati. È tutto alla fine JavaScript o oggetti di questo tipo. Che cosa serve per vederlo? Niente, basta un browser. Soprattutto IE, Microsoft. Microsoft supporta in modo totale questo standard. Lo supportavano le vecchie versioni di Internet Explorer, lo supportano le nuove, lo supporta addirittura in Microsoft Office, mi permette di aprirlo anche in Word se volessi, Excel, eccetera. Questa tecnologia sta andando anche verso gli altri, verso anche gli altri browser. Firefox funziona bene, c'è un plugin che va installato, Safari anche chiesto. Chrome non c'è ancora dato da sapere, per il momento non lo supporta, però probabilmente si andrà in una direzione, anche in questa direzione, perché comunque Chrome per esempio salva le pagine in formato che lui chiama Web Archive, che poi alla fine è un MHTML. Per cui è un bel giochino. A questo punto quindi gli elementi quali sono? Abbiamo capito che cos'è un Active Report, che è un file, che è possibile lavorare offline, è possibile aprirlo in Internet Explorer, ma l'idea è, ma caspita, Notes ha un motore di Internet Explorer integrato. Per cui se noi riusciamo a sfruttare il nostro motore IE integrato in Notes per aprire questi file, abbiamo risolto e possiamo in grado di fare un'applicazione qualsiasi in grado di aprire questi dashboard. Proviamo a buttare giù qualche requisito, che cos'ha di particolare? Beh, cerchiamo, vogliamo cercare di dare a ciascun utente all'interno della propria applicazione Notes uno più dashboard. Ovviamente stiamo dicendo, non abbiamo la limitazione di calcolargli solo i dati presenti sul nostro server Domino, sul nostro applicazione Domino, possiamo dargli qualsiasi tipo di dato. Quindi può essere parte proveniente magari da un'applicazione Notes Domino, parte proveniente da database di ERP esistenti in azienda. E in più gli do dei report offline, quindi non carico il mio server, non carico i miei sistemi, il mio utente, il mio cliente, il mio utente finale, si può replicare il suo database Domino, il suo database Notes e portarselo via, che contiene anche questi file. Quindi, disegniamo l'architettura. Abbiamo il nostro server Domino, il nostro server Domino può a sua volta scaricare dei dati verso dei database relazionali esterni, perché magari ho bisogno di integrarli. Come si fa? Beh, è semplice. Domino ha integrato il DEX, il DEX sono i servizi real-time, non ci metto veramente pochissimo, in 5 minuti sono in grado di collegare i servizi real-time da un database Domino a una mia tabella di un database relazionale. Se mi servisse andare a prelevare questo tipo di dato, lo posso fare tranquillamente. Ci sono anche altre tecniche per farlo, però. Diciamo che però la più flessibile è quella relativa al DEX. A questo punto il mio server Cognos 10 andrà a fare le sue operazioni notturne, leggerà i miei dati, li elaborerà, creerà i report, e a questo punto come faccio a mandarli alla mia applicazione? Eh beh, è semplice, via mail. Tanto il mio scheduler, il mio scheduler è presente in Cognos, per lui è una cosa abitudinaria mandare via i report via posta elettronica. Quindi li mando via email. A questo punto che cosa avrò? Avrò un agentino qua, molto semplice, molto banale, che gestirà lo smistamento di questi report. E alla fine avrò finito la mia applicazione. Vediamo brevemente i tre passaggi, ma adesso entro un po' più nel tecnico, però per dimostrarvi che è una cosa veramente banale. Poi si può tutto sofisticare, complicare, eccetera. Però questa è un'operazione molto semplice. Devo creare, creerò un semplice database che sarà il raccoglitore dei miei report. Quando lo creerò, farò in modo, mi hanno dotato di laser, potrei anche usarlo, se sapessi come si fa. Lo configurerò, quando creerò il mio database lo creerò di tipo mailbox, quindi diciamo il suo compito è quello di ricevere la posta, semplicemente. E a questo punto configurerò il mio database come mail-in. Gli associerò un indirizzo di posta elettronica, che è quello con cui configurerò il mio scheduler di Cognos 10 per mandare il report. Quindi creo un database, ci metto il mail-in database, poi ci sarà tutta la parte su Cognos 10. Adesso io non entro nello specifico, però Report Studio è lo strumento Cognos che mi permette, adesso non si vede niente ovviamente, se mi permette di costruire report in generale, qualsiasi report, qualsiasi report può essere esistente, già esistente in Cognos 10 può essere convertito in active report, per cui c'è proprio un'operazione banale da compiere, cioè io ho già il mio report, posso convertirlo immediatamente in active report. Se è un active report però posso metterci tutti quegli elementi, tutti quegli oggettini interattivi che mi interessa poi tenere. Per simulare la vista di prima uso un componente che si chiama tree, che mi metterà simile alla classificazione, alla categorizzazione delle voci. Una volta fatto il mio report entro nel mio sistema di scheduler del Cognos administrator e creerò semplicemente i task che mi permettono di generare il mio report tutte le notti a una certa ora e di mandarlo in posta elettronica a quell'indirizzo di prima. A questo punto, quando arriverà la posta, sul mio database troverò un form, troverò dei documenti, un documento per ogni report che ho generato con un form memo, perché è una posta che ho ricevuto. Quindi ci sarà un agentino, verrà scritto un agente molto semplice, il cui obiettivo qual è? Quello di fondamentalmente prendere l'allegato, popolare un campo, perché ci serve un campo con su scritto il nome del report per poi andarlo a cercare e a tirar su, quindi farò un agente che dal nome del file recupererà il nome del report e lo salverà in un campetto, ci serve per le ricerche. Per capire che ho processato il documento, li cambierò form e lo chiamerò report, poi posso fare anche qualcosa di più sofisticato, magari faccio un report specifico, gli passo dei parametri, posso andarmi a pescare dei parametri, mettermi lì laddove addirittura il mio report, noi in alcuni casi abbiamo fatto il report personalizzato, per cui è il report delle vendite, ma magari lo diamo all'agente X, all'agente Y, all'agente Z. Quindi il report magari si chiamerà vendite X, vendite Y, vendite Z. La X la andiamo a usare per farci un filtro per andarlo a recuperare se ci servisse. Il nostro agente girerà sull'evento new mail arrive, quindi ogni volta che arriva uno a me, gira l'agente e processa il mio reportino. A questo punto, se torniamo, torniamo alla nostra applicazione, come è fatta? È fatta come si fanno tutte le applicazioni in OS, c'è un frame, c'è un frame principale, poi c'è un frame di navigazione e qua c'è un altro frame, di solito ci sono contenute le viste. Questo è un navigatore standard, ogni voce di questo navigatore gli posso associare a un contenuto dall'altra parte del frame, normalmente aprirò una vista, in questo caso non aprirò una vista. Che cosa andrò ad aprire? Andrò ad aprire un URL, calcolato, questa è l'unica formula che c'è, non vi spantate. Però è molto semplice, cioè che cosa serve questa formula? Fondamentalmente serve per recuperare il report, quindi dato il nome del report lo vado a recuperare in una dblookup sulla mia vista e mi recupero il mio documento unique id. Una volta che ho il documento unique id, che cosa faccio? Compilo l'URL tramite questa formula, cioè http, il dpname, il nome del server e il nome del database, qui c'è tutta una sequenza, poi ci sarà l'universale id del mio documento, poi per recuperare il file uso questo tipo di istruzione, dal loro file e il nome del file .mht open element. Abbiamo fatto l'applicazione con una formula, questa è la formula più complicata che c'è in tutta l'applicazione. Il frame praticamente avrà un formato di questo tipo, mi sta dicendo, vuoi aprire un file attaccato, sì, un file attaccia. Vedete? C'è un frame di tipo computed con quella formula là che c'è dentro. Due accorgimenti prima di darlo in pasto agli utenti, una cosa del genere. C'è un problema di impostazioni del browser del client. Allora, normalmente tutti gli utenti vogliono fare in modo che se io clicco su una posta con un URL, con un link, mi si apre un browser esterno perché tutti dicono, il browser all'interno non lo voglio vedere. Benissimo, non c'è problema. Io con una policy posso dire, quando clicchi su un hyperlink, usa il browser di default del tuo sistema operativo, ti arrangi, non c'è problema. Ma con questa impostazione, che è un po' mascherata a dire la verità, gli sto dicendo che, qui c'è scritto che per versione precedente alla 8, invece non è vero, funziona tuttora con la 8.5.3, la 8.5.4, vedremo, però dovrebbe essere così. Gli stiamo dicendo che per tutti quelli che sono richieste di applicazione, usa il notes con Internet Explorer integrato. Quindi tutte le operazioni che fai sui link, falle pure dal browser che decide dell'utente, ma se io ti chiedo di aprire un'applicazione, per esempio come in questo caso su un frame, utilizzo il browser integrato. Seconda cosa, è vero che il browser è integrato in notes, ma ricordatevi che le impostazioni le prende dal sistema operativo, per cui il vostro server domino è meglio che venga citato tra i siti attendibili. Perché? Perché è il nostro active report che contiene javascript, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se non siete in modalità sui siti attendibili, è probabile che il vostro browser vi impedisca l'apertura. In questo caso ci assicuriamo il fatto di non aver problemi da questo punto di vista. Cosa ci manca? Il navigatore? Semplicissimo. Nel nostro navigatore c'è semplicemente la chiamata a quel frame di prima. Quindi all'interno del mio frame aprirò un altro frame, che è una tecnica abbastanza normale. Alla fine il risultato che ottengo è esattamente quello che mi prefiggevo. A questo punto sono una questione di fantasia, diciamo potete utilizzare, questo è un bel giochino però. Nel senso che chi lo vede dice, caspita, il mio pc è lento. Pur contenendo tanti dati, i file difficilmente non hanno dimensioni gigantesche. Uno potrebbe pensare che siano veramente complicati. Invece, probabilmente sono file da un mega, due mega, tre mega. Quindi se si lavora in rete locale con il nostro server domino non ci sono problemi. Io sto lavorando offline con un server domino installato sul mio pc, per cui. Però il giochino è divertente, nel senso che è un tipo di report che piace. È un vero dashboard. La prima volta, scusate se è poco, è la prima volta che si vede un dashboard sul... Sì, prego. Sì. 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 Allora, c'è un... era quello che dicevamo prima. Ci sono due modi per lavorare in tempo reale, in real time. Allora, innanzitutto dobbiamo occuparci della base dati. Devo fare in modo che Cognos lega la mia base dati di domino. Ci sono due modi per poterlo fare. La prima è sfruttare i servizi real time di domino, il famoso DEX. Io prendo, apro un servizio real time, lo collego alla mia tabella, mantengo tutti i campi in domino, non ho necessità di fare virtual field o robe varie. È molto efficiente. Noi lo usiamo già da diversi clienti e, devo essere sincero, abbiamo tabelle anche molto grosse. Ed è molto efficiente. È molto efficiente... Eh, sì. Sì, sì, sì. C'è un'altra tecnica, in realtà, un po' più complessa, che si adatta bene a... però non a tantissimi dati, che è la tecnica dell'XML. Cognos è in grado di mappare sorgenti XML di dati e io potrei fare sul mio server domino fondamentalmente un web agent che mi restituisce dietro interrogazione dei dati in formato XML, partendo dai miei. Quindi ho un agent che risponde in tempo reale alle richieste che fa il server Cognos. Questa è un'altra tecnica. Dipende che cosa esattamente si vuole fare. In caso in cui domino ha tanti record, il DEX è la soluzione migliore, perché ho il... ho... mi appoggio in tempo reale a un database relazionale che è completamente sincronizzato. Quindi da questo punto di vista, per me, è come se lavorassi su una base di dati. A questo punto io potrei avere un'interrogazione... potrei... posso tranquillamente creare nel mio framework design il mio model in Cognos e a questo punto interagisco come se fosse un database reale. C'è da dire che questi oggetti... allora, poi, questi oggetti in realtà si prestano bene per essere offline. Adesso nulla mi vieta, se volessi avere un report in Cognos da notes, nulla mi vieta, mettere un bel tastino lì, un bel tastino lì che mi... che mi lancia un report Cognos. Facilissimo da fare, perché tanto basta un url. Mi risponde? Assolutamente. Lancio un report che c'è di là. Posso lanciarlo... posso lanciarlo in PDF, posso farmelo... cioè, farmelo restituire in PDF, in Excel, eccetera. Quindi anche questa è una cosa... è una cosa che si può fare. Se si è bravi, addirittura... allora, l'unica complicazione che c'è tra questi due mondi, per il momento, adesso poi parleremo un attimo di cosa verrà in futuro, è l'autenticazione in questo momento, allo stato attuale delle cose. Quindi, la modalità migliore, più veloce, per risolvere questi problemi, è farla in Anonymous, in modalità Anonymous. Cognos gli si dice che questi sono report pubblicati senza autenticazione, pubblici, io da lì basta che si chiaccia un tastino, chiamo il record, passando tutti i parametri che voglio, non ho nessuna difficoltà a farlo, e Cognos immediatamente mi restituisce il mio report. Questo per la parte di reportistica online. Per la parte invece di dashboarding vero e proprio, questa è la soluzione migliore. Stiamo parlando di un'applicazione Notes. Poi, oggi si programma in Xpages, per cui in Xpages si aprono mondi e scenari completamente differenti. Per cui, giusto, visto che stiamo parlando di cosa verrà in futuro, con la prossima versione di Notes, e già qualcosa è presente in Cognos, il famoso Project Vulcan che IBM ha lanciato due anni fa, sta andando proprio in questa direzione. E Cognos è uno dei pilastri che IBM ha identificato come fornitore di servizi integrati all'interno delle piattaforme. Tant'è che con Connection lo stanno già facendo. Quindi, si andrà verso un'autenticazione integrata di tipo O-out, che so che, mi sembra che domani ci sia un... Ah, ora, di là? Caspita, è vero, ecco, volevo andare, non ce l'ho fatta. Si sta andando verso un'autenticazione integrata, e si stanno creando tutti questi protocolli, queste strutture di protocollo, che si chiamano, che IBM ha chiamato Open Social Activity Stream Protocol, dove ci sarà la possibilità di fare scambio. Allora, che queste funzionalità siano già presenti nella 8.54, non lo sa nessuno. Sono voci che ci virgolano, ma non... Forse Ed Brill domani ci chiarirà qualche punto, visto che lui sicuramente è il più avanti. Attualmente, nelle demo che ci sono in giro, dell'8.54, queste cose non sono ancora comprese. Bisogna capire se si arriverà, però l'integrazione dei servizi Cognos all'interno delle piattaforme social e degli strumenti di collaborazione è un must, assolutamente. E questo prima o poi si farà. Bisogna vedere se appunto con l'8.54 ho un'ipotetica 9 che uscirà l'anno prossimo. Quindi questo è ancora tutto da verificare. Perché qua c'è tutto un discorso basato sui servizi REST, che prima o poi dovranno dare tutte le rispettive piattaforme integrate all'interno con un medesimo protocollo. Però insomma, questa qua è una cosa che vedremo. Altre domande? Se no... Ho finito anche dieci minuti prima, così almeno... Vi libero, visto che non ne potete più. A meno che qua siete venuti proprio per fare la cena. Prego! Sì. 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 No, allora... No, per quanto riguarda DB2 non ci sono problemi. Addirittura c'è la compa C con cui si possono fare queste cose che è gratuita, quindi... e funziona egregiamente. Quindi dal punto di vista del database relazionale non c'è nessun problema. Nel momento in cui abilito i servizi DEX sono più che sufficienti e ho di là la replica. Cognos 10. Cognos 10 è... Ovviamente uno non è che compra Cognos 10 per fare queste cose, insomma. Cognos 10, come dicevamo prima, è una piattaforma di business analytics notevole, ecco. Diciamo che se un'azienda ha deciso di investire... A parte che non è che è un investimento devastante, perché mi sembra che viaggiamo sui 15K per server. Il server più le licenze utente. Quindi non è che stiamo parlando di un investimento gigantesco. Però, diciamo, è chiaro che uno non è che compra Cognos 10 per fare questa reportistica qua su Nozze. Se ha Cognos 10, si presuppone, e sicuramente il futuro questo avverrà, visto che stiamo già assistendo a una fortissima integrazione sulle piattaforme social, ma anche su altri prodotti di IBM. Ci troviamo che, comprando, acquisendo, per esempio, il portale, attualmente, mi sembra che in bundle, nella nuova portale 8, mi sembra che in bundle ci sia Cognos. Mi sembra che prendendo i prodotti Rational, anche lì ti danno in bundle Cognos. Quindi, diciamo, si sta muovendo qualcosa. Adesso, che comprando Domino ti diano Cognos, non ci credo, però... Beh, però in questo periodo, diciamo, c'è una versione, c'è la versione di Cognos Express, ecco, è uscita la nuova Cognos Express 10, che è notevole, quindi da questo punto di vista può dare veramente una mano anche per fare queste cose. Mi sfugge se nella Cognos Express 10 ci sono gli Active Report. Sì, è sicura? Perché danno il supporto all'iPad. Sì, ci risolviamo, ci chiediamo, perché la Cognos Express 10 è uscita giugno? Uscita giugno, prima di giugno è uscita. Quindi... Se siete interessati, i miei riferimenti, mandatemi pure email, al limite vi rispondo. Andate a mangiare? Partiamo perché è malattia. Ah, chiamiamo perché è malattia. Grazie.